Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su LeonTube, eccoci qui in questo video per andare a vedere come sta andando il nostro Grand Prix per la Razer Tycoon Speed, per prendere la chiave andiamo a vedere il quarto round non vi anticipo nulla ma sembra già tutto scontato quarto round, ancora una vittoria, nonostante un tempo non è nemmeno tanto competitivo, ormai andiamo a vedere hanno già iniziato a mollare no, non hanno iniziato a mollare, tuttavia ancora in 11 giocano quindi si divertono round 5, l'americano è già sceso, farci pressione in questa pista corta andiamo a vedere subito di quale pista si tratta, Panem e Circense, quindi Roma, Italia andiamo a vedere i premi, i soliti 25 gettoni, 4 acrobazie per ogni gara per 5 volte quindi 25 gettoni, batti il tempo di 40 secondi per 3 volte e andiamo a prendere la bellezza di 215 no, 25.000 crediti e due bei pacchettoni come al solito dove potremmo trovare anche un progetto o una parte epica battere il tempo di 39 secondi e se completiamo tutto 4 bellissimi progetti della Razer quindi presumo ce ne siano almeno altri 4 anche nel prossimo round abbiamo ancora un giorno, 19 ore, quindi come sempre durano due giorni le possibilità di giocare il round quindi possiamo allenarci, abbiamo i soliti 3 tentativi di carburante oppure possiamo andare in carriera e trovare quella pista lì eccolo qua, ne troviamo uno qui, German Wheels, capitolo 3 gara numero 5 quindi gara numero 5, andiamo a vedere con quali auto possiamo farle partiamo da una serie di C, B, C, ok quindi questa, se avete le auto va benissimo qui senza che stiamo a guardare altre auto livello 3000, quindi ci sono anche livelli buoni per farla simile alla nostra ovviamente la gara non sarà la stessa auto abbastanza anche per i principianti queste qui, diciamo per chi è poco che iniziamo quelle auto dovrebbe averle sbloccate oppure comunque andiamo a vedere se ne troviamo una anche nel capitolo 1 ora ci guardo un attimo allora non c'è nel capitolo 1 quindi torniamo a fare gli allenamenti abbiamo visto comunque che possiamo farlo nel capitolo 3 e quindi andiamo via subito a provare questa pista a vedere se riusciamo a battere subito il tempo di 39 secondi al primo tentativo eccoci qua, pista corta, primo tentativo solo accelerazione e guida senza rampe senza senza rampe e senza nitro biancata destra fatta e proviamo anche senza senza drift senza terapare quindi circuito classico ok vabbè questa la prendiamo perché diciamo che è quasi obbligatoria per il tracciato è incredibile 40 secondi e 5 quindi tempo alto ok iniziamo col nitro e lo usiamo solo sull'ultima rampa nitro al meglio andiamo a vedere quanto miglioriamo comunque vedete che ogni pista ha le sue caratteristiche non la scorsa pista ma l'altra la venutima corta quella al Cairo anche senza nitro si riuscì a fare un buon tempo questa la salta oh mamma mia dicevo di andare a sbattere ok pochissimo usato il nitro oh errore incredibile in fase di atterraggio ok contiamo meno 4 ma ho preso anche la rampa eh tosta 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 al 38 con una stella per chi non è troppo forte alla guida andiamo a fare quindi l'ultimo tentativo per ora eccoci qua ultimo tentativo di allenamento e poi la gara tra l'altro non sono riuscito a prendere nessuno premio ok qui possiamo stringerla meglio vabbè ho preso non sbaglio oh difficile il tempo il 38 eh non facile come le altre piste appena fatto un premio nessuna acrobazia ovviamente non prendendo i le rampe quindi andiamo a fare il primo tentativo di gara primo tentativo di gara vediamo un po' cosa riusciamo a fare questa pista non ho visto cioè ho visto il tempo del primo l'americano che seguo in classifica ma tempo alto mi sembrava sopra i premi comunque andando avanti sono sempre un po' più difficili da raggiungere i premi se non si potenzia l'auto però sono fattibili andiamo a fare la gara con la gara normale siamo già dietro quindi molto male la prima parte lì c'è molto da recuperare andiamo a cercare la rampa troppo alta avete visto come è facile fare le acrobazie nitro presa uh 38 007 incredibile ok andiamo a vedere il secondo 38 e 2 ue allora sono io che non so fare questa pista non la so farva ancora peggio tempo in allenamento 39 ok quindi da battere 38 si fa si sta impegnando l'americano la chiave diciamo per me è un passo in questo girone perché anche arrivando sempre secondo non dovrei aver difficoltà ok allora con questo tentativo la chiudiamo qua chiudiamo il video vi salutiamo e ci vediamo presto per l'ultimo round mi raccomando un bel mi piace condividete il video con i vostri amici non dimenticate di lasciare un bel commento e se vi va come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti grazie